Ci vai con i tuoi amici per un aperitivo. Bravo. Ragazzi, che state facendo? Sorelli, stiamo giocando, siete di vicino a noi. Siete nel passaggio dall'infanzia all'età tutta. Alla crescenza. Bravo. Ma che cos'è l'adolescenza? Adolescenza è cos'è l'adolescenza. Adesso te lo spieghiamo noi. Mamma mia, andiamo a dare il bagno. Un attimo. Mamma. Siamo arrivati al cielo, come sono scorcianti. Mamma mia ricca, guarda il gruppo che mi sono nascendo. Ma a me mi sembra che c'è una madre. No, non è. Mamma, qua fuori sono i amici di Gelli. Come è? No, no. No, no. Oggi è, sei pronto. Oggi sono facendo. c'è un bel cavolo E' il basso, e perchè non abbiamo l'improvviso? Cattivo! Cattivo! Cemi alla cimba la cimba, io la cosa? Un embryo e offerta. Oh! Oh non è ma te attacchi Hope? Sotto ma senti magari so' costo, ad'gabbito! Ale spirito è un armature e numero 1? E attraverso? Si, no, hai potuto fare questo? E quando E ora? Non è un po' più bello, ma non è un po' più bello. Non è un po' più bello, ma non è un po' più bello. Adesso capisco quello che fa per noi. È una superficie per me e per la mia famiglia. Maman, come andou? C'è un po' con mamma. C'è tipo da 4 mi casa, senza ciò da fare. C'è un po' buon bambini di me e dei raffaelli. Cosa sono? Mi hanno detto che i raffaelli in questo caso è un prodotto. Adesso ho capito che cos'è l'adolescenza.